Salve a tutti senza luce e benvenuti in un nuovo video qui su TopGames. Io sono Samuel ed oggi vedremo cosa otteniamo dall'ottavo boss notturno che incontriamo nel gioco. Come al solito questo video offerto al nostro sponsor, Auea, un sito tra il quale potete acquistare rune, materiali di gioco, armi, armature e il più una più una meta, senza dimenticare che in serie del codice sconto TopGames otterrete un ulteriore 3% su questo acquisto. Cosa aspettate di iscrivervi al canale e lasciare un bel like al video ed un commento qui sotto, senza dimenticare di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricheremo un nuovo video. In questo video andremo a battere l'ottavo boss notturno segreto eccetera eccetera e lo troveremo alla grazia cancello occidentale di Raya Lucaria. Ovviamente come al solito dovrete far calare le tenebre sul mondo e davanti a voi, vicino alle rovine sul sentiero, vedrete l'ennesimo cavaliere notturno. Oramai saprete benissimo come battere questi cavalieri dato che tutti hanno lo stesso pattern e praticamente la stessa difficoltà, l'unica variante è la loro arma. Contro questo boss non potremo usare l'ambiente di gioco a nostro vantaggio ma sinceramente contro i cavalieri notturni nemmeno serve. Quello che effettivamente è degno di nota è la ricompensa che otterremo battendo questo cavaliere. Finalmente otterremo l'altra arma dei cavalieri notturni. Mentre la prima si ottiene alla penisola del pianto, la scialunga si trova proprio qui. Oltretutto otterremo anche una cenere di guerra, caccia gigante, quindi una doppia ricompensa davvero importante ed ottima come arma. La scialunga dei cavalieri notturni ha un pattern davvero carino ed una cenere di guerra ottima e a questo punto direi che non ci resta che scoprire le posizioni di altri cavalieri e boss segreti ma soprattutto dove trovare la loro armatura. Io so già dove si trova e probabilmente anche molti di voi. Cercherò di arrivare al punto di gioco necessario per ottenerla per portarvi anche il loro fantastico set di armatura per chi ancora non lo sapesse. Detto questo direi che è giunto il momento di salutarci e per aver giunto il momento se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale, lasciare un like per supportarci e commentare qui sotto. Ci vediamo in un prossimo video senza luce. Ciao a tutti!